Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, una storia finita a causa di una donna Compare proprio lei al fianco del tecnico a si continua a parlare di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri Anche se tra i due il rapporto sembra essere ormai chiuso definitivamente, spunta la donna che ha fatto perdere la testa ad Allegri e probabilmente ha stata la causa della fine del rapporto Ecco chi ha questa donna. Ambra Angiolini è conosciuta nel panorama televisivo soprattutto per la trasmissione dalla quale ha poi divenuta un'icona Sono tante le persone che ricorderanno il brano Tappartengo, per il quale ha divenuta celebre Gli anni 90, per Ambra Angiolini, sono stati fortunati e al contempo felici Nel corso della sua carriera, si è poi dedicata alla recitazione Oggi infatti ha una delle attrici pia esponente uno talentuose nel panorama cinematografico italiano Ha preso parte a diverse pellicole, tra cui Saturno contro, Bianco e Nero, ti ricordi di me? Un Natale stupefacente, sette minuti, al posto tuo, brave ragazze, vengo anche io, stai lontana da me Ma non solo, l'abbiamo spesso vista anche in diversi programmi tv Un dramma per Ambra Angiolini, ecco la donna vicina a Massimiliano Allegri con tutti questi film Ha divenuto un punto di riferimento per il cinema italiano, anche se il suo successo ha dovuto soprattutto alla trasmissione nona alla Rai, con cui ha esordito sul piccolo schermo Ha della sua vita lavorativa conosciamo molti dettagli, e lo stesso vale anche per la sua vita privata Sappiamo infatti che Ambra Angiolini per molti anni ha stata legata a Francesco Renga Con il quale, come lei stessa ha dichiarato durante un'intervista, ha avuto un rapporto abbastanza enigmatico Un'altra lezione importante dell'attrice ha stata quella con Massimiliano Allegri, anche stavolta giunta al termine per i presunti tradimenti dell'uomo nei confronti della sua dolce meta Come riporta il sito Libero Quotidiano, tutta l'attenzione mediatica attirata sull'ex coppia non ha stata inutile A quanto pare Massimiliano Allegri non ha tradito solo ipoteticamente la compagna, dato che ha spuntata anche una donna misteriosa al fianco dell'allenatore Ancora non ha stata svelata l'identità di questa donna, fatto sta che sono giunte delle foto inedite in cui i due sono stati paparazzati sulla spiaggia in Sardegna a godersi un po' di relax Al momento i paparazzi non sono riusciti a catturare ulteriori dettagli, tanto meno degli atteggiamenti intimi tra i due Con molta probabilità, nei prossimi giorni, potrebbero esserci dei risvolti interessanti in tutta la situazione Sicuramente, saranno sempre sotto gli occhi di tutti